Due anni di chiusura per la piscina comunale, due anni senza assegnazione e due mesi per l'effettuazione di un sopralluogo. La denuncia del consigliere comunale di opposizione Annalisa Petitto che con un blitz arriva alla struttura, all'impianto e lo trova completamente aperto ed incustodito. È una interrogazione nella quale la consigliera chiede delle spiegazioni supportata da un video nel quale spiega tutto quello che è accaduto anche nei giorni precedenti. La piscina è priva di qualunque forma di custodia. Dal canto su l'amministrazione ha indetto un'indagine interna per capire cosa è successo. Il sindaco Gambino ha detto che non pensava si potesse arrivare a tanto riferendosi agli atti vandalici, alla piscina comunale di Caltanissetta dove sono, in cui i gnoti avrebbero rubato il rame dei fili elettrici danneggiando l'intero impianto elettrico della piscina comunale. Adesso vi faccio vedere. Oggi io al sindaco dico che neanche io pensavo si potesse arrivare a un tale e tanto stato di degrado, di abbandono, di distruzione e di sporcizia. La porta, come vedete, di via Rochester è aperta. Lo è oggi che sono le 13.10 del 27 agosto, lo era ieri alle 11.30, lo era ieri sera alle ore 20. Entriamo. Questa è la nostra piscina. Chiunque può entrare liberamente indisturbato all'interno della struttura, proprio come se fosse in piena funzionalità. Ieri mattina sono entrata, ho cercato un custode, l'ho cercato anche prima di questo video. Cercavo qualcuno perché volevo fare nel mio ruolo di consigliere comunale della città un atto ispettivo, ma non ho trovato nessuno. Ho trovato solo quello che vi mostro, il vuoto, la sporcizia e l'abbandono.